ciao gianni adesso vediamo alcune cose sulle luci prima di tutto io partirei da una scena dove ci sono delle luci fotometriche ed è non una scena dove c'è un sistema ad esempio in environment con uno sky qua dentro perché c'era uno sky direttamente qua dentro partirei con physical esposo di default i6 e v che viene controllato dalla physical camera quindi lavoriamo su una physical camera ed in select camera lui a 6 e v anche lui qua quindi sono tutti i parametri di default in questo caso quello dove noi lavoreremo saranno le luci la prima luce che ho inserito è una luce quad 10x10 ed in questo caso mi va a illuminare questa parte della scena adesso io vado a spegnere le altre perché ho messo ad esempio una luce mesh quindi qua c'è solo questa scena sono in active shaded con arnold per vedere velocemente quindi nelle proprietà del render qui dentro gli ho messo arnold ho bloccato render sulla camera siamo in cpu quindi lui in questo caso fa il rendere da questa parte le ombre qua ci sono i materiali sono un po più trasparenti nel senso che ho inserito per quanto riguarda il materiale è sempre un physical materiale fisico come quello che hai messo tu però sono ripartito dal template quindi gli ho ridetto solido ad esempio solid glass è molto molto trasparente quindi le ombre in questo caso non si vedono chiaro che se comincio ad abbassare un po la trasparenza io vedo le ombre perché qua dietro ci sono le ombre dei nostri delle nostre bottiglie che sono queste 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 se noi abbiamo un qualsiasi contributo all'interno dell'environment quindi render environment qui dentro ad esempio uno sky è ovvio che lui prende un contributo di illuminazione per qualsiasi cosa c'è qua dentro per lui illuminazione quindi se c'è una mappa sky con l'intensità lui va un po vanificare le ombre che noi stiamo cercando di ottenere in questo caso per quanto riguarda l'altra luce ci sono due condizioni questo è un oggetto un cilindro a questo cilindro è stato applicato all'interno del materiale un materiale fisico con una emissione e 150 candele perché lui di default sarebbe così ed è troppo troppo intenso quindi si scende con le candele si decide quanto deve essere luminosa questa tipologia di mesh in relazione alle mie necessità e poi successivamente si introduce un'altra luce ed nell'altra luce gli si dice questa è una luce mesh infatti io ho inserito una luce gli ho detto che una luce mesh quindi una luce di arnold light e sono andato a prendere il cilindro e poi ho modificato un po il filter color che è questo ovvio che quando io l'attivo lei va ad illuminare la scena in questo modo poi si gioca sulla sua esposizione se la voglio meno intensa vado su 8 10 ed sull'intensità si può giocare aumentando ancora diminuendo questa tipologia di intensità se ci sono troppi noise si può aumentare i samples per i render in queste locazioni samples volume samples ovviamente più io vado ad aumentare questi samples più rallento render come spiegato all'interno del corso sugli oggetti per andare ad eliminare questi puntini si va sull'oggetto si applica il modificatore di arnold si disattiva diffuse reflection perché con diffuse reflection attivo abbiamo più disturbo per quanto riguarda l'oggetto che deve fungere da auto illuminazione poi ovviamente io posso modificare spostare l'oggetto dove preferisco essendo un oggetto e come vedi comunque le ombre ci sono se voglio posso introdurre un'altra tipologia di luce qua c'è un'altra luce che illumina sulla sull'altro fianco quindi da questa parte se voglio andare ad ammorbidire le ombre ed in questo caso quando io l'attivo introduco un pochino più di illuminazione anche questo è un quad 10x10 quindi non è molto importante come dimensione ed se voglio anche qui expose ovviamente 10 12 in questo caso andiamo ad aumentare molto di più la illuminazione di contro andiamo ad appiattire un po le ombre quindi dipende poi dalla scelta del nostro intento si potrebbe aumentare un po' questa andare ad esempio sull'altra questa qua è 12 e 2 si potrebbe diminuire ad esempio 1 e avere un altro tipo di illuminazione di questo tipo essendo in active shaded tutto quello che noi stiamo facendo poi deve essere riportato all'interno del render classico quindi adesso render ad esempio di questo tipo render però non è detto come vedi che lui va a prendermi deve prendere ad esempio la fisica scamera giusta che questa perché io quando l'ho bloccata ritorna ad esempio l'interno del render setup vado a bloccare la camera fisica scamera ovvio che in questo caso è meglio aumentare un po' quelle che sono i contributi per quanto riguarda diffusione specularità eccetera eccetera perché altrimenti poi andiamo incontro a un noise sicuramente si fanno un po' di test magari su render region ed si visualizza se il render che stiamo facendo a livello di noise quindi di campionamento è sufficiente oppure è necessario aumentare ancora un po' il campionamento sia delle luci quindi sample e sia delle impostazioni del nostro render in questo caso è abbastanza diciamo morbido quindi potremmo tenere anche questo tipo di sample ti allego la scena e te la salvo così fai save